Numerose le problematiche emerse nell'ultima terza commissione consigliare a cui ha partecipato il consigliere regionale Marco Dolfin, lega Liga Veneta, capo Dipartimento Pesca e numerose le proposte del territorio che sono state esposte. Come afferma il consigliere è stata una commissione esterna molto importante. I rappresentanti di categoria hanno illustrato la situazione e le difficoltà che si trovano ad affrontare nel loro lavoro, oltre agli spunti per poter dare risposte in termini di gestione e sburocratizzazione, ad esempio riguardo la carta ittica e sui prodotti del nostro territorio. Prodotti, che lo ricordiamo, fanno parte da sempre della nostra pesca tradizionale, della nostra enogastronomia locale e della nostra identità. Importante a parere del consigliere è la presenza del sindaco di Cavallino Treporti, Nesto, che ha evidenziato la collaborazione istituzionale tra la regione e i comuni sui temi della blu economy, ambientali e turistici. Presenti anche i biologi che hanno illustrato come stanno cambiando la morfologia e gli abitati della laguna, la flora e la fauna, e i riflessi negativi e le criticità, come ad esempio la salinità. Quindi benvengano i fondi europei FEAMPA che la regione riesce a investire per mettere in atto progetti che arrivano dal mondo della pesca, conclude Dolphin, il quale ha ribadito in più contesti quanto vitale sia il settore della pesca per l'economia del nostro territorio e che ritieni commissioni esterne come quella a cui ha partecipato, importanti per conoscere da vicino le realtà del settore e il loro modo di lavorare, istituendo così interventi regionali per tutelare il settore. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata a Valle Spluga e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il Parco Commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua.